buon pomeriggio a tutti quanti buon pomeriggio oggi è giovedì ed è il 16 maggio del 2019 buon pomeriggio a tutti quanti e spero che da voi faccia bel tempo qui in sicilia abbiamo avuto una bomba d'acqua a catania a palermo tutta l'isola è stata un po così tartassata dalla pioggia oggi si passa dalla primavera all'inverno all'estate all'autunno non si sa più quello che si deve pensare l'importante che stiamo che siamo vivi che stiamo bene l'importante che possiamo andare avanti noi andiamo avanti nel nome di gesù andiamo avanti continuiamo anche con questi video cercando di incoraggiare più persone possibile per poter vivere una vita di eccellenza e vivere una vita ripiena dell'amore di dio ripiena soprattutto della rivelazione della sua grazia nella nostra vita perché questo è quello che fa e sempre farà la differenza ed è proprio questo aspetto che vorrei vedere per quanto riguarda la vita di gesù un aspetto particolare della del ministerio di gesù che è straordinario come voi vedete nel potete leggere nel titolo che è un titolo un po particolare infatti l'ho messo tra virgolette il titolo è gesù non si fa pregare è un'espressione che diciamo utilizziamo un pochettino qui al sud da noi in italia quando quando una persona quando devi cercare di convincere una persona quando una persona un po restia ad ascoltare a fare quello che gli stai chiedendo alla fine ce ne usciamo un pochettino con questa frase gli diciamo dai non ti non ti fare pregare per favore non sei dio non ti fare pregare allora vorrei utilizzare questa frase un pochettino per sdrammatizzare un pochettino quelli che a volte sono degli insegnamenti un po ortodossi un po brutali che vanno a a distorcere un po l'immagine che dovremmo avere tutti quanti di gesù e vorrei prendere spunto in maniera particolare dal vangelo di matteo al capitolo 8 ho accennato qualcosa ieri sera nella riunione a palermo e riguardante la risposta di gesù quando qualcuno veniva a chiedergli aiuto quando qualcuno veniva a chiedergli guarigione quando qualcuno veniva e si prostrava davanti ai suoi piedi e lo adorava e lo lo venerava e gesù con molta tranquillità rispondeva in nella nello specifico sto parlando di matteo 8 ad esempio dal verso 1 in poi e questo capitolo viene tratta la vita di gesù subito dopo aver fatto insegnamento sul sul monte quello che viene chiamato il sermone sul monte quindi matteo 5 6 e 7 lui poi scende a valle e la prima cosa che accade dopo quell'insegnamento è che un lebroso va gli si prostra ai piedi gli si getta ai piedi e lo supplica dicendogli maestro se tu vuoi tu puoi guarirmi e la risposta di gesù è stata la seguente viene descritto anche nel vangelo di di marco in maniera particolare dice che gesù mosso a compassione stese la mano e lo toccò non c'era bisogno di toccare il lebroso perché gesù molto spesso guariva semplicemente con la parola ma in quel momento gesù volle fare sentire il lebroso accolto accettato amato gli ha voluto fare sentire il suo tocco e la risposta di gesù è straordinaria la risposta è sì lo voglio il lebroso viene guarito subito dopo c'è la guarigione del del servo del centurione capernaum centurione capernaum va da gesù gli dice maestro il mio servo giace a casa malato sta male gesù gli lo guarda gli risponde gli dice sì io verrò e lo guarirò senza battere ciglio senza discutere e sappiamo la risposta del centurione che gli dice non c'è bisogno che tu vieni a casa mia di soltanto una parola il mio servo sarà guarito sappiamo la storia gesù elogia la fede di questo centurione e il servo viene sanato subito dopo questo episodio è scritto che gesù entra a capernaum entra nella casa di pietro e trova la suocera la suocera che era letto malata con la febbre nessuno chiede a gesù di guarirla nessuno chiede a gesù pietro probabilmente stava aspettando che la suocera andasse a vita migliore gesù entra vede questa donna anziana sul letto la prende per la mano e la febbre lascia la 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 suocera di pietro la quale si alza immediatamente e si mette subito a servirli subito dopo dice la che tutta la città entrò praticamente era alla porta e gesù guariva tutti coloro che venivano con fede gesù guariva cacciava i demoni e faceva miracoli ora su questi episodi ci sarebbe da parlare veramente per tanto tanto tempo perché ci consentono un materiale che si potrebbe aprire e tagliare così tanto da poter fare veramente tante sessioni di studio ma vorrei andare un attimo al nocciolo della questione il lebroso il centurione capernaum la suocera di pietro e le persone che andavano a casa da lui nessuno cercava di convincere gesù e gesù non aveva bisogno di essere convinto dico questo perché molto spesso c'è stato insegnato che che gesù ha bisogno di suppliche che lui ha bisogno di pianti che lui ha bisogno di grida che lui ha bisogno di notte di preghiera che lui ha bisogno di digiuni che lui ha bisogno di offerte quando noi leggiamo i vangeli non vediamo assolutamente niente di tutto questo gesù non è il tipo che si fa pregare nel senso che non ha bisogno di essere convinto dalle nostre parole oltretutto una cosa importante noi non possiamo convincere gesù con le nostre parole non possiamo convincerlo con le nostre preghiere non possiamo convincerlo con le nostre con i nostri digiuni non possiamo convincerlo con le nostre offerte non possiamo convincerlo con la nostra fedeltà ad una comunità o con il nostro servizio gesù guarda a noi e non è convinto da quello che possiamo fare noi per lui lui agisce nella nostra vita non perché siamo riusciti a convincerlo in qualche modo noi lui agisce nella nostra vita perché ci ama e questa rivelazione della grazia è importante afferrarla nella nostra vita perché no se no sembra che noi abbiamo a che fare con un dio che ha bisogno di essere convinto da noi affinché lui possa guarirci liberarci rispondere alle nostre richieste eccetera eccetera non è così quando noi andiamo a vedere gesù e leggiamo il ministero di gesù noi vediamo cose meravigliose nella sua vita non c'era bisogno di ripetere la cosa neanche due volte pensate alla donna dal flusso di sangue neanche ha pregato gesù le ha toccato la veste con fede è stata guarita jairo il capo della sinagoga va da lui gli dice ti prego vieni da me e e viene a imporre le mani su mia figlia perché gravemente malata affinché guarisca e la bibbia dice che gesù si alzò e lo seguì tutte le volte vediamo che gesù è pronto immediatamente a rispondere e a esaudire il bisogno delle persone che vanno a lui con fede è una delle cose incredibili una delle cose che io vedo a volte che che fanno male e cercare di dare degli insegnamenti delle tecniche del tipo del tipo e cinque passi per essere guariti tre chiavi per ricevere la tua prosperità e otto metodi otto modi i modi per poter avere la protezione da parte di dio avere la l'angelo di dio a protezione della tua vita della tua casa dei tuoi figli eccetera eccetera quando noi leggiamo la bibbia noi non troviamo niente di tutto questo perché dio non è un a volte è brutto sentire insegnamenti del tipo se tu dai la decima dio ti farà prosperare se tu dai la decima dio sgriderà il verme divoratore se tu dai la decima dio provvederà o dio ti proteggerà e mi rendo conto di a volte i nostri insegnamenti non presentano dio come un padre di lo presentano come un padrino come il padrino del film di coppola nel 1972 noi non paghiamo il pizzo a dio per ricevere la sua protezione questo si fa in sicilia questo si fa in calabria questo si fa in campania non si paga il pizzo per avere un qualcosa in cambio per avere una una protezione per avere il suo occhio che guarda su di noi noi cerchiamo di mettere dio al primo posto nella nostra vita ma dobbiamo renderci conto di una cosa che è molto più importante di quello che noi possiamo fare ed è che dio ha messo noi al primo posto nella sua vita dio ha tanto amato il mondo dio ha tanto amato te e me da dare suo figlio per ognuno di noi affinché noi potessimo veramente godere i benefici del regno di dio questa è la salvezza in realtà affinché crede in lui non perisca ma abbia vita eterna sperimentare il tipo di vita di dio sperimentare il regno di dio sperimentare la benedizione del regno di dio basta solo credere cosa disse gesù a jairo quando vennero a dirgli che sua figlia era morta e gli consigliarono di non disturbare più il maestro gesù si voltò verso lui e disse non temere ma credi solamente vedete gesù non creava problemi quando qualcuno veniva a chiedergli qualche cosa gesù non è che gli diceva ma tu a che religione appartiene sei ebreo sei un sei un asiatico sei un sei un pagano di che religione sei frequenti qualche sinagoga hai qualche rabbino di riferimento sei nato di nuovo ti sei battezzato hai smesso di fumare come la tua gesù non guardava niente di tutto questo gesù non chiedeva prima e gesù non chiedeva dopo anche perché lui sapeva ogni cosa ma una cosa è certa chiunque andava a lui aveva una risposta immediata immediata e questo è meraviglioso gesù non è il tipo che si lascia pregare lui quando vede un bisogno agisce ed ecco perché voglio incoraggiarti questa sera perché probabilmente 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 forse sicuramente l'unica cosa che ti impedisce di ricevere un miracolo è proprio il la rivelazione contorta che tu hai di dio forse la cosa che ti impedisce di ricevere il miracolo è perché stai cercando di guadagnartelo in un modo in un altro con il tuo modo di pregare con il tuo dare con il tuo dire con il tuo fare non è così grazie a dio non è così complicare le cose non ci permette di sperimentare la bellezza delle sue benedizioni nella nostra vita sii semplice torna ad essere come un piccolo fanciullo e dire signore è la tua volontà se è la tua volontà allora io lo ricevo nel nome di gesù la volontà di dio per te è buona accettevole ed è perfetta abbiamo a che fare con un padre meraviglioso che non ha bisogno di farsi pregare ma che prima che noi gli chiediamo qualcosa lui sa già ciò di cui abbiamo bisogno quindi dobbiamo avere non solo fede ma avere fiducia fidarci totalmente come piccoli fanciulli che si lanciano tra le braccia del padre perché sanno che quelle braccia li sosterranno una buona giornata a tutti quanti